Trieste e il cinema, così semplicemente si intitola il volume, frutto della collaborazione fra la fondazione CR Trieste, la cappella underground e il piccolo, presentato stamani. Come hanno ricordato Paolo Lughi, curatore del testo e il presidente della cappella underground Daniele Terzoli, il libro riempie una sorta di vuoto. Nel corso del tempo molto è stato pubblicato su singoli aspetti del rapporto fra la città e la settima arte, mai però un volume onnicomprensivo. Questa pubblicazione copre tutti gli intrecci fra Trieste e il cinema. I film girati a Trieste con un ampio spazio dedicato a quelli degli anni successivi alla nascita della Film Commission, le sale cinematografiche, quelle ancora in esercizio e quelle scomparse, gli attori, le attrici, gli intellettuali, critici, i registi, le tante personalità che questa città ha regalato al mondo del cinema. Trieste e il cinema, suddiviso in fascicoli, che saranno distribuiti gratuitamente con il piccolo a partire da lunedì 9 dicembre, rende particolarmente orgogliosa la fondazione, come ha sottolineato la presidente Tiziana Benussi, già che rende omaggio a tutte le persone che hanno contribuito a portare avanti l'amore della città per il cinema, proponendo piccole chicche, ma aiuta anche a scoprire piccoli segreti che i più certamente non conoscono. Poi ancora un testo inedito di Tulio Kezic, che racconta del rapporto tra Trieste e il cinema americano, che era rimasto nei cassetti da un'iniziativa di quasi 50 anni fa, e io voglio ricordare anche che questa iniziativa nasce in un'occasione particolare, che è il 50esimo anniversario della Cappella Underground. C'era uno studio di produzione, l'unico studio di produzione mai realizzato qui in Friuli Venezia Giulia, alla Fiera di Montebello negli anni 60, che ha realizzato tantissimi b-movies, i film di genere tanto cari a Quentin Tarantino, fra cui per esempio il primo in assoluto Spaghetti Western, che è il massacro al Grande Canyon del 1963 di Sergio Corbucci. Spaghetti Grazie a tutti.